Ciao! Io mi chiamo Sidney e guarda oggi che gioco faccio con l'alla! Voila! Un altro lo mettiamo qui! Mi posso guardare nello specchio? Aspetta un momentino, non ho ancora finito! Ecco qua! Ecco fatto! Adesso puoi guardarti allo specchio! Grazie Sidney, mi piacciono gli adesivi che mi hai messo! Di niente! E a te piace mettere gli adesivi sui tuoi giocattoli? Ciao Gigi! Ma che bella macchina rossa! Noi ci stiamo attaccando addosso gli adesivi! Oh che bello! Posso avere degli adesivi anche sulla mia macchina? Ma certo! Io ho tantissimi adesivi! Guarda! Ho gli unicorni, i cuoricini, le tazze da tè, quelli dello spazio e anche le macchinine! Oh che belli! Incolliamoli subito! Mettiamo anche questo qui! Dimmi, a te piace giocare con gli adesivi? Guarda questo com'è carino! Aspettatemi! Le incolla uno anch'io! Un trenino! Un motorino! Io incollo questo! Io invece incollo questo! E io incollo questo! Wow! Come è diventata bella la mia macchina! Wow! E a te piace come abbiamo decorato la macchina? a me piace molto quella venuta che bello unicorno guardate la macchinina si è trasformata in un unicorno urrà evviva ma che fine ha fatto la mia macchina ciao giocate con me urrà evviva certo che vanno a giocare con te io invece no urrà 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 lalla guarda ti ha portato le palline Gigi vieni a giocare si dai vieni con noi non mi va ma perchè guarda che bello un unicorno è bellissimo per giocarci insieme su Gigi vieni a giocare con me non voglio giocare con te non mi piacciono gli unicorni beh visto che non ti piacciono scusate per il disturbo oh povera lalina mia Gigi ma perché hai offeso l'unicorno ma io sono stato semplicemente sincero a me davvero non piacciono gli unicorni perché sono da femmina ma che dici Gigi il fatto che normalmente di solito gli unicorni piacciono alle bambine non significa che gli unicorni sono solo da femmina anzi anche gli unicorni hanno bisogno di compagnia proprio come te adesso andiamo a cercare l'unicorno e tu le chiedi scusa per essere stato sportivo e va bene ehi aspettatemi aspettatemi vieni anche tu con noi a cercare l'unicorno oh ehi unicorno Gigi ti vuole dire qualcosa unicorno scusami sono stato scortese e poi possiamo giocare ancora insieme va bene bravo Gigi è importante saper chiedere scusa su venite salitemi in groppa è il momento di un po' di magia urrà come si divertono i miei bimbi in due giocare molto più divertente sì è proprio vero oh sono tutti contenti l'unicorno Gigi e Lalla e con te ci vediamo la prossima volta quando vedrai il prossimo video con i miei due gemellini ciao ciao